Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, di nuovo buongiorno. Video inaspettato perché sono arrivate nel giro di due minuti, davvero due minuti, due novità importanti, relativamente importanti per quanto riguarda i football, sia per le licenze sia per il gioco in sé. Grazie, ringrazio Alessandro Villanova per la segnalazione di Twitter che vedremo tra poco, ma adesso partiamo con le licenze. Questo è il post pubblicato sul PES Italia blog, già pubblicato in zona community. Ve lo ricordo sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale per ricevere tutte le notifiche sia dei video sia per la zona community e gli altri tre modi per supportare il canale. Anche iscrivervi al canale ci supporta, sono sempre gli stessi. Abbonamento, offerta una tantum tramite il tasto grazie, acquisti su Amazon, passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video. Non lo dico più perché già prima l'ho detto, quindi vi ringrazio comunque per tutto quello che fate, già siete in tanti a farlo, se siete ancora di più, ancora meglio, e quelli che lo fanno, se continuano a farlo, ancora meglio. Detto questo, veniamo a questo comunicato stampo ufficiale Konami. Konami Digital Entertainment annuncia la chiusura di un accordo pluriannale con Accimmonza. In realtà questa partnership è già iniziata quest'anno, ma solo in questo momento viene ufficializzato, che ha recentemente ottenuto la promozione in serie per la prima volta nella storia del club. Konami diventerà official videogame partner, l'accordo si concretizzerà a partire la stagione calcistica 2022-2023, ma ripeto, questa partnership era già in essere, pur non essendo stata annunciata quest'anno. e vedrà il club presente in futuri aggiornamenti della serie football. La partnership includerà numerose attività di marketing, calciatori leggendari e diritti e sport. Speriamo di vedere queste leggende del Monza, che, così, diciamo che dell'Atalanta e del Napoli le vorremmo anche vedere e sicuramente sarebbero più importanti di quelle del Monza. L'anno scorso avevo fatto due video ad hoc, sia per l'Atalanta che per il Napoli, perché della Roma qualcosa è uscito, della Lazio pure, anche se solo due. di Atalanta e Napoli siamo ancora in attesa. Speriamo che, ecco, che nei prossimi mesi vedremo le leggende di Monza, di Atalanta e di Napoli. Per dare il via alla partnership, Konami ha effettuato una completa scansione 3D della squadra C-Monza e il club farà parte della nuova competizione sport Konami, che inizierà in Italia la prossima stagione. E questa è un'altra notizia, nuova competizione sport Konami, che in Italia comincerà la prossima stagione. Storico club calcistico fondato nel 1912, a C-Monza è stato acquistato nel 2018 a Finivest SSPA, holding di Silvio Berlusconi, evento straordinario per la città. L'arrivo di Berlusconi e Adriano Galliani ha portato grande entusiasmo a fronte degli incredibili risultati tenuti in passato dal 2 alla guida del Milan. L'annuncio di questa partnership da parte di Konami per i football è solo l'ultima serie di importanti accordi stretti con club italiani, come AS Roma, SS Lazio, SS C-Napoli, Atalanta BC e più recentemente AC Milan. Qui c'è un'altra notizia ragazzi, nel comunicato ufficiale Konami non si cita più la Juventus. Ragazzi, è finita, sicuramente l'esclusiva è finita, la partnership è dura, la speranza più grande è che la Juve rimanga con i diritti di licenza come il Milan e i Esports. Il Milan è diventata partnership, partner di Konami, ma rimarrà con i Esports a livello di nome e di kit. Dell'Inter ancora non si sa nulla, staremo a vedere, staremo a vedere, però questo fatto che non si cita più la Juventus è una notizia, indubbiamente. Naoki Morita, Presidente a Konami Digital, commenta, grazie alla nuova partnership con AC Monza siamo convinti di poter raggiungere un numero ancora più ampio di appassionati giocatori, in Italia non solo, ci auguriamo una lunga e fruttosa collaborazione. Galliani, CEO di AC Monza, aggiunge un grande onore unirsi ad altri club italiani e internazionali che già collaborano con Konami. Questo accordo consente all'AC Monza di espandere il proprio marchio in tutto il mondo e siamo convinti che entrambi le parti trarranno grande beneficio dalla partnership. E questa è la questione licenze, la questione Juve, la questione che ci parla qui di competizioni sport Konami che inizierà in Italia la prossima stagione. E veniamo poi al Twitter ufficiale Konami, ringrazio ancora Alessandro Villanova per la segnalazione, grazie per l'aggiocato di Football 2022, vorremmo estendere la nostra gratitudine per tutti i feedback e suggerimenti sin dal lancio della versione 1.1.0. Stiamo cercando di riflettere il tuo feedback e affrontare i problemi segnalati tramite i prossimi aggiornamenti. Per cominciare implementeremo una serie di miglioramenti tramite l'aggiornamento della versione 1.1.1 del 16 giugno, quindi arriva un nuovo update, quindi esterno al gioco, arriverà questo 1.1.1, comprese le modifiche, la durata delle partite e di alcune modalità di gioco. Ne aveva già parlato Konami per le versioni mobile, ora viene confermato per tutte le versioni, anche PC e per console. Per maggiori dettagli consulta il sito web ufficiale e gli avvisi all'interno del gioco quando l'aggiornamento sarà disponibile. Giovedì quindi, oltre agli obiettivi premium, oltre ad altre novità, ci sarà un aggiornamento ufficiale del gioco 1.1.1.1. Ed infine, Konami ci scrive, inoltre condurremo un sondaggio sul gameplay nel prossimo futuro, quindi prenditi del tempo per darci il tuo prezioso feedback. Ci auguriamo che continui a divertirti con i football 2022. Io vi invito a partecipare a questo sondaggio, assolutamente, per dire quello che vi piace e quello che non vi piace, perché è uno di quei momenti in cui potete dire la vostra e non in maniera, come dire, scordinata sui social, così, a reaction e che non vengono, come dire, strutturate questi feedback. Qui questo sondaggio sarà fondamentale e mi auguro che ovviamente tutti voi lo votiate per avere un e-football più vicino possibile alle vostre esigenze. Poi, ovviamente, io leggo, ad esempio, anche sugli arbitri, c'è chi dice che sono troppo lassisti, c'è chi dice che sono troppo severi e quindi, voglio dire, il risultato finale sarà la somma di questi feedback differenti. Comunque, è importante esprimersi e vi assicuro che, come Konami darà il link per questo sondaggio, lo troverete sul canale di Talia Top Games, sul blog di PES Italia e su tutti i nostri social. Bene, ragazzi, questo è stato un video improvviso, ma importante. Commentate, commentate, commentate tutte queste notizie date, che sono tutte, tutte sottolinee ufficiali. La questione della Juve è ufficiale, che non è presente, poi il resto sono mie ipotesi, ma sono notizie davvero importanti, anche questa competizione sport per l'Italia, che ci interessa davvero molto e speriamo di saperne presto di più. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video, che in teoria è le 17 con un gioco non di calcio, ma di motorsport. Molto, molto bello il video da non perdere. Altrimenti, se ci sono breaking news, come in questo caso, si va subito di video, anche prima delle 17. Grazie per l'attenzione e a presto. Ciao! Ciao!